Cominciamo subito con Roberta Pinotti, buongiorno, ben trovata senatrice del PD, nonché ex ministro della difesa. Allora, Pinotti, lei si aspettava un'alleanza strategica di lungo periodo, coesa, ci crede ancora o dopo l'Umbria è tutto troppo difficile? Beh, ci siamo presentati al paese dopo un periodo in cui le due forze erano contrapposte, anche in modo abbastanza vigoroso, con un progetto. A differenza di quello che avevano fatto Lega e Cinque Stelle, poi Salvini ho sentito che diceva che noi ci insultiamo molto, la memoria di Salvini è veramente corta, perché io ricordo le mazzate reciproche che si davano quando erano al governo insieme. Ce le ricordiamo tutti, devo dire. Esatto. Però lì si trattava di un contratto dove ciascuno aveva messo il proprio punto. Noi abbiamo lavorato nei tempi dati, nell'estate più pazza della politica, però presentandoci con un progetto con 29 punti che sono stati concordati. Allora, davvero diventa incomprensibile per questo paese capire come poco tempo fa ci siamo presentati, si è giurato, davanti al Presidente della Repubblica, questo governo ha giurato dicendo vogliamo fare queste cose, pensate di mandare tutta a carte 48. Per cosa? Perché si perde in una regione come l'Umbria? Era una, purtroppo, una sconfitta abbastanza annunciata. Ricordiamoci che già adesso i due terzi dell'Umbria sono governati le città più importanti dal centro-destra. Però molti dicono proprio questo, se era una sconfitta annunciata, ma proprio lì dovevate fare la prova di questa alleanza con le 5 Stelle. Andava meglio se andavamo divisi? Cioè, francamente, oppure se non si faceva la foto in cui si mettevano insieme i leader, quando si decide di dare una mano a un candidato che generosamente si è prestato, ci si va, ci si mette la faccia e si cerca di dare una mano. Il tema vero è che, partendo da una condizione di difficoltà, si è cambiato completamente un'alleanza. Prima dicevate un amore di plastica nell'introduzione. Allora, è una scommessa di un progetto per il Paese, dove però, appunto, quando si decide di mettersi insieme, poi si coltiva. Non vuole dire, non si sa se poi alla fine diventa davvero il grande amore, però, da questo punto di vista, ci si lavora perché la cosa funziona. Quindi, quello che dice Zingaretti, non lavoriamo sulle differenze, sui distinguo, e i risultati che porta avanti questo governo siano poi i risultati di tutti. Credo che sia una ricetta molto salta. Sto dicendo la Pinotti, che è un grande spirito pragmatico, tipico delle donne, peraltro. Voglio dire, non è il grande amore, ma se lavoriamo bene possiamo fare una convivenza decente. No, io spero che diventi invece un amore, una prospettiva, ma dico anche, sono consapevole, che oggi bisogna lavorarci perché diventa un progetto comune. Insomma, non ci sono i colpi di fulmine, caro il mio Antonello Caporala, ci sono pure i miei amori che si costruiscono un pezzetto alla volta con pazienza.